Expo è per la gente, così ha esordito Martina Colombari, ambasciatrice di Expo 2015 in occasione della consegna del primo riconoscimento del ventennale del premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito, rassegna nazionale promossa dall'Associazione Culturale Il Simposio delle Muse di Piano di Sorrento con la direzione artistica di Mario Esposito che abbiamo ascoltato. Il ventennale del premio Arturo Esposito, il simposio delle Muse, propone Casa Campania, un momento trasversale dove arte e gastronomia si incrociano per rappresentare il nostro territorio e le nostre bellezze. E proprio ad Expo, nello spazio istituzionale, la piazzetta di Padiglione Italia, il ventennale della Kermessa ha proposto l'innovativa iniziativa Casa Campania, un format dedicato al gusto, all'arte e alle eccellenze della dieta mediterranea. Dopo la presentazione dello speciale menù Expo del nascente distretto enno gastronomico delle qualità di Palma Campania, istituito dal Comune e dalla Confcommercio, momento di grande rilevo culturale è stato il binomio tra arte e gusto con un'originale performance a quattro mani dell'artista Giuseppe Leone e del cuoco contadino Pietro Parisi. Per un attore trovarsi ad Espo è un modo di sentirsi ancora più testimone e protagonista della vita reale del paese, dei suoi sogni, delle sue attese, delle sue speranze.